Migliore copertura sui pick and roll e prevale una grande squadra di pick and roll Quindi deve essere fatto un lavoro di un certo tipo per contenere Raskovic e Mascadri nel loro pick and roll letale Adesso c'è Iacono che prova a tirare dall'angolo Tripla bersaglio da parte del numero 10, altro assist di Giocondo Bravissima a trovare 21 ospite, a trovare questi due punti E' sempre così, ottimo attacco, batte ottima difesa Comunque Iacono più di questo oggettivamente non poteva fare Prova a rispondere Mike Iacono con la tripla, seconda in questo primo quarto Più 1, 10 a 9 E se iniziano a segnare Mike Iacono e Peppe Giocondo Miranfredi, 3 contro 2, cerca un passaggio bruttissimo Ovvero bellissimo se funziona ma brutto se non funziona Giocondo nell'angolo per Iacono, forse c'era inflazione di passi, gli abiti non fiscano nulla E c'è la tripla di Mike Iacono Abbiamo vissuto un momento di non basket e poi è arrivato Mike Iacono a sistemare tutto Un minuto da mini basket più che da basso Buona difesa di Bassani Ancora Bassani in difesa sul numero 13 in maglia nera Rimbalzo di Marco Colombo per Iacono, finta al passaggio dalla sua mattonella Michael Iacono, meno 3 e adesso è prevale a chiamare necessariamente time out Super parziale di Milano 3 E' andata bene Iacono, c'è l'uscita di Aleferri Consegnato le mani di Colombo, nuovamente Mike Iacono contro Faini Blocco forte di Ragni, Iacono da 3 punti La palla, entra! Ancora tripla di Mike Iacono Determinante questa sera il numero 10 Deribaldi che sta facendo discretamente bene in difesa Però continua a non trovare la via del canestro Infatti continua a chiamare la palla 5 palmi in penetrazione nell'angolo per Iacono da 3 punti E beh, questa sera veramente Mike Iacono segna qualsiasi cosa che gli passa per le mani Per coach pugliese va benissimo così E beh, questa è la prima cosa che gli passa per le mani